Voltiamo pagina, si è svolta ieri nell'Aula Magna dell'Università la cerimonia degli auguri natalizi del Rettore Massimo Carpinelli. Sono stati salutati i docenti, i dipendenti tecnico-amministrativi andati in pensione. Un'occasione per un bilancio dell'attività svolta nel 2017. Luca Foddai. Un Ateneo che nel 2017 ha confermato i suoi livelli di eccellenza e che si prepara per le prossime sfide. Ieri pomeriggio l'Aula Magna dell'Università ha ospitato la tradizionale cerimonia degli auguri natalizi del Rettore Massimo Carpinelli. Nell'occasione sono stati salutati 22 docenti dell'Ateneo e 16 dipendenti tecnici-amministrativi andati in pensione nel corso dell'anno. Tutti hanno ricevuto il sigillo storico dell'Università di Sassari, in segno di ringraziamento per i tanti anni di servizio resi all'amministrazione. Gli allievi del liceo musicale Azzunni hanno inoltre eseguito il concerto per viola e archi di Georg Philipp Telemann. La festa è stata addolcita da una sorpresa che alcuni studenti internazionali UNIS, dei progetti Sardegna Formed ed Erasmus, hanno preparato insieme all'ERSU. Nel 2017, secondo la classifica Censis Repubblica, l'Università di Sassari si è confermata terza tra tutti gli Atenei Medi italiani, prima in termini assoluti per internazionalizzazione, comunicazione e servizi digitali e strutture. Dati positivi anche per i singoli corsi di studio. Per quanto riguarda le lauree triennali, per il quinto anno consecutivo all'Università Sassarese è al primo posto con architettura. Tra le lauree magistrali a ciclo unico, primo posto del corso di veterinaria. Un anno che ha visto rinnovata la fiducia degli studenti in questo Ateneo, con un numero di iscritti che sta crescendo di anno in anno ben al di sopra della media nazionale, dimostra di essere un Ateneo che ha oramai una reputazione scientifica e non solo internazionale. Un Ateneo che si lega sempre di più alla città di Sassari, al territorio di tutta la Sardegna, ma è un Ateneo che però guarda lontano e guarda anche a quelle che possono essere le eccellenze al di fuori della nostra regione per poter collaborare con loro, con tutta la forza che noi abbiamo, che ci viene dalla tradizione e dall'intelligenza dei nostri studenti e dei nostri ricercatori.